signori signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine a voi ben conosciuto della mia libreria allora allora cari signori quest'oggi in questo video si parla di un aereo della di un aereo italiano poco conosciuto e poco noto perché fu praticamente costruito in un solo esemplare mi è stato chiesto di parlarne e lo faccio molto volentieri perché si tratta di un aereo interessante a cui pare strano ma è legato anche un curioso ricordo familiare quindi quest'oggi parliamo in questo video del sai ambrosini s403 dardo ovvero sia questo bell'aeroplano qui in una foto del primo prototipo e una immagine del tre viste ok allora che cos'era il sai s403 allora era un come dire un aereo che apparteneva alla classe dei cosiddetti caccia leggeri aeroplani che dovevano essere costruiti con materiali non strategici armati in modo leggero e con motori di bassa potenza che comunque sia garantivano interessanti prestazioni velocistiche grazie al fatto che l'aeroplano aveva poco peso ok ls403 era la versione definitiva del come dire del caccia leggero della famiglia dei caccia leggeri della sai ambrosini ripeto parliamo di questo aereo qui eccolo qua ripeto vi faccio vedere il tre viste questi sono alcuni esemplari e questo qui è l'unico prototipo conosciuto e con le insegne tedesche tra il il 43 e il 44 ok allora dicevo la versione definitiva del caccia leggero avrebbe dovuto essere per l'appunto il 403 dardo con ala completamente riprogettata dall'ingegner camillo silva e con il ricorso per la costruzione a legnami di produzione nazionale perché logicamente in guerra durante la seconda guerra mondiale noi avevamo sempre una tragica terribile e irrimediabile mancanza di leghe leggere decenti e quindi si pensò di sfruttare la nostra esperienza per le costruzioni aeronautiche in legno con la famiglia dei caccia leggeri ambrosini di cui il 403 rappresenta il vertice ok allora allora il tenente con l'ingegner silva che era tenente colonnello del genio aeronautico ruolo ingegneri previde tre varianti dell'ese 403 lo s 403 a con due armi da 12 e 7 l'ese 403 b con le due 12 e 7 nel muso e due armi da 12 e 7 con due armi da 12 e 7 con due armi da 12 e 7 e due cannoni da 20 millimetri e lo s 403 c a grande autonomia con due sole mitragliatrici alari e due serbatoi sganciabili allora in una lettera del generale di brigata aerea ferdinando raffaelli del 14 agosto 1943 si fa riferimento a dardo 1 e dardo 2 sui quali i due cannoni mauser da 20 millimetri non avrebbero dovuto essere montati e te credo preziosi come erano forse era meglio metterli sui 205 o sui g55 ma vabbè lasciamo stare e ma non si capisce se in questo modo fossero indicate due versioni o i due prototipi allora il primo s 403 dardo forse la matricola militare 98778 uscì di fabbrica attorno al primo aprile 43 e compì il primo volo con il capitano piero colombo ma già al secondo volo il 10 maggio 43 presso il centro sperimentale di roma guidonia questo aereo purtroppo precipitò e colombo morì per la mancata apertura del paracadute il pilota collaudatore sia di auto che di moto che di aerei è sempre un mestieraccio estremamente rischioso vabbè e nonostante i risultati catastrofici di questa famiglia di caccialeggeri il 29 marzo 1943 era stato deciso di ordinarne 300 alla sai ambrosini e 150 alla siai marchetti cui si aggiunsero il 13 luglio ulteriori ordini per 250 aerei alla caproni tagliedo 50 alla caproni trento e 300 all'ambrosini e quest'ultimo ordine forse per una svista dell'estensore riporta 300 s 208 vabbè il secondo prototipo di fabbrica uscì nel luglio 1943 e fu trasferito presso la siai marchetti di vergiate per servire quale campione per la produzione non ricevette la matricola militare e sui documenti è indicato come mm1 come matricola militare 1 nel febbraio 44 sotto controllo tedesco compì alcuni voli pilotato da nello valzania in seguito sempre nei primi mesi del 1944 fu trasferito a venaria reale dove si tentò un impiego operativo ma dove se ne perdono le tracce allora nel 1949 l'aeronautica militare richiese un nuovo addestratore e la sai ambrosini ripropose una cellula basata su quelle dei caccia leggeri della seconda guerra mondiale ma completamente ridisegnata alla quale fu mantenuta la designazione s7 insomma un aereo questo il dardo il 403 dardo che poteva essere come dire interessante che poteva magari servire a qualcosa ma che ahimè si rivelò ancor più disastroso dei suoi predecessori perché oggettivamente volava male la struttura non conteneva il legname nazionale non era propriamente adatto alle costruzioni aeronautiche ebbene si ebbene si l'italia è un paese ricco di boschi poveri perché il legname che si produce qua in italia non è propriamente adatto ripeto agli impieghi aeronautici gli inglesi costruivano il moschito anche loro in legno ma loro avevano l'aicori canadese loro avevano la balsa dai loro domini tropicali aicori e balsa sono legni e d'aglas e legno di abete d'aglas erano decisamente migliori rispetto agli autoctoni e autarchici pioppo acero faggio eccetera 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 ebbene si signori non avevamo neanche il legno adatto tra l'altro il ricordo familiare che mi lega a questo aereo allora dovete sapere una cosa quando ero ragazzino io passavo molto tempo con i miei nonni materni e con i miei nonni paterni mio nonno paterno mi raccontava la storia di quando nel nostro comune monte felcino in provincia di pesaro a qualcuno non ho mai saputo chi fosse anche perché non ho mai trovato niente di di scritto e sinceramente non so dirvelo mio nonno e suo fratello sono morti oramai da anni e i miei nonni materni anche loro non ci sono più da tanti anni e quindi come dire i testimoni diretti sono ahimè venuti a mancare e i ricordi si fanno sempre più vaghi e nebulosi dicevo praticamente a monte felcino diciamo verso il tra il 1943 e il 1944 non sono mai stato capace di sapere quando con precisione a qualcuno probabilmente al capo al locale caporione del al locale caporione fascista e venne in mente di vietare ai contadini di raccogliere e tagliare la robinia per farne legna da artere allora la robinia è un albero che viene il cui nome scientifico è robinia pseudo acacia perché assomiglia all'acacia è un albero che cresce estremamente in fretta è un albero che ha un legname di discreta qualità robusto pesante i contadini lo usavano perché ne facevano delle siepi delle fratte di delimitazione dei campi era un albero ripeto che cresceva in fretta era un albero che dopo due o tre anni poteva essere tagliato e bruciato nel camino era un albero che nella economia poverissima delle nostre campagne degli anni 30 e 40 era una cosa fondamentale ed essenziale per il riscaldamento domestico perché senza la robinia senza la legna da ardere che si raccoglieva per i fossi per le sterpaglie per le scarpate per le siepi vicinali le case italiane non potevano le case dei contadini italiani non potevano essere riscaldate non poteva essere acceso il non poteva essere acceso il forno con cui si cucinava il pane e il mangiare e la robinia era una componente fondamentale della povera economia delle nostre campagne quindi vi lascio immaginare quello che successe quando i miei nonni si sentirono dire che era vietato raccogliere la robinia è dimenticavo nel nostro dialetto la robinia si chiama o la caccia o la maruga sono praticamente che cosa succede succede che i miei nonni devono far legna devono far legna per l'inverno e si scopre perché qualcuno ha ordinato di non tagliare la robinia perché la robinia serve la robinia va tagliata e portata agli ammassi cioè vanno tagliati i tronchi e portati agli ammassi locali perché quel legno serve all'industria aeronautica molto probabilmente quel legno doveva servire a costruire il 407 dardo ora io non so se questa iniziativa del vietare ai contadini la raccolta della robinia per preservare le coltivazioni di questa essenza insomma la robinia è un albero infestante cresce con una velocità spaventosa caccia ovunque cioè diciamo è è una sorta di alien vegetale la robinia perché veramente non riesci una volta che arriva come dire in zona non va più via perché ha una crescita spaventosa si propaga con i semi si propaga con le radici che se avendo un impianto radicale estremamente forte dalla crescita estremamente veloce e in superficie le radici delle robinie tirano fuori alberi nuovi ebbene sì insomma quest'albero non doveva più essere tagliato miei nonni brontolarono già che come dire non avevano un buon rapporto con il partito nazionale fascista figurarsi se lo avevano col partito fascista repubblicano insomma insomma vi lascio immaginare però diciamo che non successe niente perché fortunatamente la guerra finì prima che il divieto di raccolta della robinia passasse in insomma diventasse operativo io ripeto non ho mai saputo se questa cosa sia vera non so se sia se si sia trattato di una idea di un caporione fascista locale o se ci sia stata qualche direttiva per come dire accumulare la maggior quantità di legno di robinia possibile per costruire il dardo per costruire per costruire i caccia leggeri della sai ambrosi è una cosa che mi dicevano i miei nonni è una cosa che come dire non so fino a che punto sia vera o possa essere vera mio nonno disse semplicemente che dei divieti del partito se ne fregava allegramente perché se la scelta era tra il morire di freddo e il non poter cucinare detto scusate tanto se proprio devo morire tanto vale che muoio con i piedi al caldo e come se niente fosse continuò a tagliare la la maruga guarino cofeita e la maruga ci fa perché a perché tanzi no sa come scalda ecco questo era 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 quello che dicevano gli i contadini quando si sentirono dire che non potevano più tagliare il legno il che non potevano più tagliare gli alberi di robinia alzarono le braccia e dicevo oh state a sentire i salamaruga c'è cucina salamaruga c'è scal chesa salamaruga i cefoi attrezzi salamaruga salegno de maruga i cefò tutanico senza la maruga è un po sfegniente quindi i la continuose questo fecero i contadini nelle mie parti e il velleitario divieto di vietare la raccolta il taglio degli alberi di robinia ahimè fini nel dimenticatoio quanto prima ripeto cari signori se voi ne sapete qualcosa di questa storia di questo divieto di uso da parte dei contadini degli alberi di robinia per vabbè per farne manici per attrezzi per farne legna da ardere per farne mobili tavolini e quant'altro così fatemi sapere qualche cosa perché è una curiosità che mi porto dietro da quando ero ragazzino me la raccontavano i miei nonni sia nonno rodolfo il mio nonno paterno sia nonno guerrino il mio nonno materno non ne so molto io ho soltanto la loro testimonianza loro non sono più fra noi io non ho idea se si sia trattato ripeto di una iniziativa personale del caporione locale del del partito nazionale fascista prima e del partito fascista repubblicano poi e che doveva servire secondo quello che mi raccontavano i miei nonni promolto probabilmente a costruire questo aereo il sai s 403 dardo che ripeto era un aereo tutt'altro che buono molto problematico molto poco utile allo sforzo bellico perché era un un aereo che come dire aveva una velocità massima stimata di 588 chilometri orari saliva a 6.000 metri in 6 minuti e 40 secondi toccava una tangenza pratica di 10.000 metri con un raggio d'azione di 8 di 400 chilometri insomma un aereo quasi inutile un aereo che però vorrei tanto sapere se è vero che per costruirlo volevano impedire ai contadini italiani di tagliare gli alberi di robinia tutto quindi cari signori come sempre io vi ringrazio per l'attenzione come sempre ci sono i commenti aspetto i vostri commenti come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao